A Villammare di Vibonati, nell'incantevole scenario dell'Hotel La Perla, si è chiusa con le conclusioni del segretario nazionale Ottavio De Luca la tre giorni del corso di formazione per amministratori di enti bilaterali di nomina Filca CISL. Ai lavori di questo primo modulo ha partecipato anche Cristina Raghitta, segretaria nazionale della Filca CISL, l'avvocato Matteo Benetti, natura giuridica e contrattuale degli enti, statuto ed organi statutari, linee guida CNCE per la redazione dello statuto, e la docente Bianca Maria Baron che ha parlato delle interconnessioni di IMSS, INAIL, BNI ed il monte ore contrattuale nelle denunce. Al primo modulo di Villammare sono intervenuti i rappresentanti della Filca CISL provenienti da tutte le regioni della penisola. La formazione deve essere di alto profilo, ha detto De Luca, perché la legislazione sul lavoro è in continua evoluzione. Ci devono essere poi sempre maggiori controlli dalle autorità preposte nei luoghi di lavoro, con visite guidate. Ritengo, ha detto tra l'altro il segretario nazionale, che si debba necessariamente puntare su una nuova cultura della sicurezza, anche con una consulenza preventiva. Filca CISL sugli scudi, quindi, per quanto concerne la formazione, al fine di rafforzare ed aggiornare la consapevolezza del ruolo e le competenze dei partecipanti. Si è parlato diffusamente, ha aggiunto Taglio De Luca, soddisfatto di aver organizzato questo primo modulo nel suo Golfo di Policastro, originario di Sapri, di legalità e di regolarità nel settore edile e dei principi guida per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti.